E bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono il vostro MrBistecca Ed oggi signori per la prima volta insieme ci troviamo qua su Destiny 2 Chiaramente ragazzi l'ho voluto comprare anch'io Destiny perchè avendo, diciamo, giocato al primo raga Dico diciamo perchè non ce l'ho mai avuto io effettivamente Però ci ho giocato anche, ci ho giocato veramente un sacco di volte Dai miei amici e quindi raga mi piace francamente ho voluto comprarlo Ho detto vabbè perchè no proviamo a portare anche un video sul canale Magari vi può piacere e possiamo fare qualcosa insieme Oggi raga faremo qualcosa veramente di semplice Cioè proprio niente di che non vado neanche a sparecchiare in qua e in là al giro per i mondi raga Perchè oggi voglio semplicemente andare al viaggiatore con voi Aprire sti due engrammi che ho o fare qualcosa di così appunto semplice e basta Poi raga chiaramente se i video dovessero piacervi su Destiny magari potrei anche portarvi qualche altra tipologia Magari qualche assalto, qualche partita nel crogiolo, l'incursione, quella lì Leviatano, Calanotte, insomma raga quello poi magari vedremo noi cosa fare Ed eccoci dunque al viaggiatore raga poi adesso vi faccio vedere anche il mio bellissimo personaggino Comunque prima parliamo con la gente e prendiamo anche la roba Perchè c'ho un pegno dell'arcologia di titano così che spunta a caso che non l'avevo preso Boh bella Poi passiamo all'everversum Facciamoci aprire l'engramma luminoso Allora Robaccia non mi piace E ecco Visto raga che involontariamente l'ho aperto Comunque questi qua momentaneamente diciamo siamo noi con questo super bomberone raga Quanto meno esteticamente devo dire che mi piace molto E allora abbiamo la corona delle tempeste Poi segno di tesserato quarto Potrei mettere anche i bracciali del sole che avrebbe anche senso Potrebbe anche avere senso perché se io faccio un esempio raga No il resto è uguale perché giustamente questo fa veramente schifo Quindi noi rimettiamoci così perché fa più scena Poi abbiamo la toga filomatica Gli stivali dei cavalieri di Gensim Anche se potremmo avere i passi trasversivi che non potenzio dal 15-18 Il richiamo di Massirian Che è un bracciale che cazzo è Poi abbiamo L'involco dell'ultima città per lo spettro Come arma distruttiva abbiamo ragazzi momentaneamente un fucile di precisione Che non mi serve a un cazzo Sinceramente ragazzi non mi serve a niente Preferirei molto di più un lancio granate Un lancio razzi Però accontentiamoci per il momento di questo Perché lancio granate che ho ottenuto non mi piacevano Volendo potrei avere o il senza pietà O il prospettore che sono devastanti raga Sono veramente devastanti come armi Però appunto ancora non ce li abbiamo Poi potrei sbloccare in futuro il distruttore di mondi Però devo fare l'incursione Che è difficile raga Cioè per farla preferisco avere degli amici E per il momento non so bene con chi farla C'ho già gente con cui c'ho Ma non mi sento troppo sicuro Anche perché sono ancora scarso Io proprio Come arma secondaria Come arma energetica Quindi abbiamo il Drang Che è una buonissima pistola Però volendo potremmo avere anche o il Dura Luce O il mini strumento mida in attesa di sbloccare il mida Quello grosso E come arma principale Quindi come arma cinetica Abbiamo ragazzi lo Sturm Che si ottiene con il Drang È devastante raga Lo Sturm è veramente forte E abbiamo anche lo Scateloke Un buon fucile automatico Non male E sto appunto ottenendo Insomma sto facendo le missioni Per ottenere il mida Mi manca ancora un fucile da ricondizione Che presto avremo Ma io ho aperto Perché volevo vedere La storia Eeeh Più non Com'è Più maionica Vediamolo Andiamo non solo Una sbirciata No mi piace di più il mio Ragà francamente Il mio attualmente è questo qua Francamente mi sta più simpatico Quindi questo ce lo possiamo Lo smontare E siamo a posto Vai Andiamo a parlare Con Banshee Che sarebbe l'arma No prima Anzi facciamo così Prima devi tornare a parlare Con Zavala Ci dovrebbe essere qua Anche se è tipo il capo Esatto Comandante Zavala Eccolo qua Che le si deve fare Le si deve dare Questi E basta Bella Andiamo agli sti cosi A posto Ciao bello Vai Solo questo? Perché vedo che Silo Vabbè Bella Parliamo infine Con Maestro Rakul Prima di parlare con Banshee Eccolo qua Decifiamola in gramma Vediamo cosa ci dà Di buono Dei guanti Complesso Cervellotico Sono da 2,65 Non sono Eccezionali Daga Potremmo anche scartarli Tanto abbiamo già di meglio Vieni vieni Vai vai A posto E adesso Per finire in bellezza Passiamo dall'armaiolo Che ho veramente un bordello Raga di roba da dargli Porca miseria Sono strapieno E 58 Raga Voglio qua A dargli roba Subito E in gramma Legia 49 Ci ha dato nuovamente Un cecchino Sembra Comunque dopo andiamo a vedere Diamo gli ancora roba Altro in gramma Nox Eco Vediamo Darci l'ultimo 1 2 Preciso In gramma Una spada No Brutta la spada Raga Ma Vediamo Allora Abbiamo Un fucile a precisione Un fucile a fusione E una spada Nulla di che Nulla di che Raga Veramente Nulla di che Il cecchino È meglio di quello che Ciò di già Quindi Lo mettiamo Ad attivo Le persone precise Generano un'esplosione elementale E non è male Ragazzi Non è effettivamente male Però Questo fa schifo Quale più rapide Consecutivamente I danni infitti da quest'arma Vabbè Ci mettiamo ragazzi Questo e basta Adesso Ragazzi possiamo scaltare tutto Tanto la spada A me non piace E Fusce la fusione Volendo abbiamo Senza pietà Che ragazzi È una cosa Allocinante Cecchino Abbiamo quest'altro Che è meglio Smontiamo tutto Torniamo All'armaiolo Rendiamoli Questi ultimi pezzi È stato stupido A dargli Quell'altro Potevamo dargli da 10 Dava più roba Ma va bene lo stesso Raga E niente Il video ragazzi Lo concludiamo già qua Perché appunto Giusto un assaggino Per farvi vedere Come siamo organizzati E basta Andiamo a giocare Anche a calcio Su Destiny Pensa un po' Come siamo messi Proprio alla frutta E niente Appunto ragazzi Come sempre Spero che il video Vi sia piaciuto Vi invito ragazzi A lasciare Dei like Stavolta Perché anche Per farmi capire Se Stati polliciati Il video Possa Piacervi Oppure no Fatemi Comunque anche sapere Con un commento Se appunto Vi dovesse far piacere Avere Qualche altro video Su Destiny E Bene che ci possiamo Vedere Domani Con un nuovo video Buona